Lunedì 15 marzo il governo Draghi ha sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca. A comunicarlo è stato Nicola Magrini, direttore dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. La decisione è arrivata subito dopo la pubblicazione da parte dell'Agenzia di Sorveglianza Tedesca di alcuni risultati che hanno portato alla sospensione del vaccino anche in Germania, in Francia e in altri paesi europei. Si tratta di possibili correlazioni con casi di trombosi in soggetti a cui era da poco stato somministrato il vaccino. L'EMA ha quindi avviato una revisione dei dati che si concluderà domani 18 marzo per confermare o smentire il rischio. Le somministrazioni del vaccino AstraZeneca potrebbero riprendere subito anche in Italia che nei giorni di sospensione ha vaccinato circa 200.000 soggetti in meno del previsto. Per rispettare il piano vaccinale comunicato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, le dosi somministrate ogni giorno dovranno essere circa mezzo milione a partire dalla metà di aprile. Riusciremo a mantenere il ritmo previsto?